Ciao sono Cristiano di Viaggiovero.com Il video di oggi come da argomento dell'articolo va ad analizzare Logitravel.it un'agenzia di viaggi online che ultimamente sta riscuotendo un bel successo un bel successo perché ha dei servizi decisamente richiesti dal mercato e una buona assistenza post vendita andiamo a vedere velocemente quali sono i servizi che offre Logitravel.it Logitravel lo puoi raggiungere anche dall'indirizzo che vedi in sovraimpressione www.viaggiovero.com slash che è la barra Logitravel scritto Logitravel come vedi in sovraimpressione questa è la home page andremo ad analizzare nella parte alta tutte le voci riguardanti i vari servizi offerti e in vendita ma quello che ti volevo far notare è l'home page decisamente pulita ha dei motori di ricerca e i banner centrali e sulla destra ha i motori di ricerca per i vari servizi comuni a tutte le agenzie di viaggio online del tipo autonoleggio, voli, hotel nelle grandi città eccetera non mancano le possibilità di iscriversi e seguire Logitravel sui più principali social network tipo facebook e twitter hanno una politica di miglior prezzo garantito in cui ti dicono che se trovi a meno il prezzo rispetto a quello che ti fanno loro ti rimborsano la differenza per due praticamente il doppio della differenza la cosa che si nota subito è il loro principale tipo di vendita che è quello delle crociere loro sono decisamente famosi per avere l'offerta, come dice anche il banner, più ampia al miglior prezzo per quanto riguarda le crociere si trovano davvero delle offerte molto buone su Logitravel per le crociere hanno un motore di ricerca rapido ma anche uno più profondo e complesso e più complesso non tanto quanto più facile e più ampio da utilizzare comunque già quello rapido ti dà la possibilità di scegliere la zona, il mese di partenza, la compagnia ed eventualmente la durata quindi diciamo che il loro punto di partenza come sito sono proprio le crociere poi comunque non lesinano su vacanze complete, su hotel al mare, weekend eccetera voci che puoi trovare sia sui banner scorrendo la pagina al centro della pagina sia sulle linguette nella parte alta proprio sopra il nome e quindi hai hotel al mare, quindi una categoria ben definita le vacanze in città, mediterraneo, mare Italia, mari lontani e grandi viaggi i ponti che cambiano di periodo in periodo durante l'anno città per soggiorno in città, mare Italia, mediterraneo, weekend poi una pagina abbastanza interessante oltre anche alle case vacanze poste nella voce altri come dicevo una voce abbastanza importante è quella delle super offerte le super offerte ti consiglio di andare spesso a vederle perché hanno dei, non chiamiamoli last minute ma alla fine sono quasi last minute non sono last minute in termini di tempo ma in termini di costo in quanto hanno sui voli più hotel sui voli più hotel più auto oppure col transfero, hotel e basta o crociere hanno possibilità di vendere un certo numero di pacchetti a prezzi veramente scontati e in offerta quindi io ti consiglio sempre di andare a vedere questa pagina e magari provare tramite queste linguette a cercare il servizio che più ti interessa e vedere se trovi una di queste super offerte di Logi Travel perché come ti dicevo sono veramente scontato di percentuali ampie nella parte, tornando alla home page nella parte più a destra come linguette troviamo come ti dicevo all'inizio del video i classici servizi che offrono le agenzie online quindi voli, hotel, volo più hotel e auto noleggio diciamo che non c'è molta differenza rispetto a tutte le altre agenzie e quindi il funzionamento è lo stesso il medesimo non sto ad andare tramite il pannello di controllo nella parte proprio più in alto a destra hai il numero di telefono a cui chiamare in caso di bisogno il contatto che ti apre una pagina di contatto diretto per email, ti dice gli orari e poi ci sono le altre forme di contatto poi abbiamo la voce le mie prenotazioni in cui inserendo l'identificazione dell'utente cioè l'email e la password fornita al momento dell'iscrizione o della prenotazione nel caso tu abbia già scelto di prenotare puoi entrare nella tua area privata in cui avrai le tue prenotazioni potrai fare eventuali modifiche oppure avrai canali preferenziali di contatto per modificare o fare qualsiasi cambiamento sulla prenotazione stessa diciamo che questo è Logi Travel è un'agenzia che sta andando bene è un'agenzia di cui si sente parlare bene quindi io te la consiglio ti consiglio soprattutto le super offerte di seguirle sia per quanto riguarda le crociere se sei amante di questo tipo di vacanza sia per quanto riguarda tutti gli altri servizi io sono Cristiano di Viaggiovero.com ci sentiamo al prossimo video ciao ciao